Grazie per la visione! Sentite l'audio e invece temo che vediate un riquadro grigio con sotto il mio nome. Questo vuol dire che questa sera non funziona la telecamera, ma poco male perché non sono io lo speaker della serata e quindi l'importante è che funziona a Carlo Dorofatti e non a me. Ok, benissimo, vedo che state rispondendo. Per coloro che sono nuovi alla Self Help Academy, molto brevemente vi invito a sfogliare, andare sul nostro sito web e a conoscerci tramite le registrazioni delle videoconferenze che abbiamo fatto in passato e quelle che faremo in futuro. Attualmente la Self Help Academy si trova in una politica di riorganizzazione, quindi per questo il calendario delle videoconferenze future è ancora vuoto, viene organizzato diciamo sul momento. A breve verrà rilasciato un nuovo piano divulgativo come sempre. Intanto cominciamo perché le persone continueranno ad arrivare, ma noi questa sera cominciamo. Abbiamo con noi Carlo Dorofatti questa sera e per me è un grande piacere perché io ho conosciuto Carlo tramite un'amica che credo sia in sala con noi, Fulvia, questa sera. Mi fece vedere qualche mese fa una sua presentazione su YouTube del libro Vibrare Altrove, un volume dedicato appunto alla trasmutazione delle energie sessuali. Io vi dico un piacere questa presentazione, la presentazione di Carlo Dorofatti appunto del volume Vibrare Altrove e pensai ecco una delle poche persone in Italia che parla di un argomento così delicato in maniera preparata, in maniera trasparente, in maniera pulita, in maniera come dire efficace. E quindi da quel dì c'è sempre stato il desiderio di collaborare o di invitarlo alla Self Help Academy e questa sera finalmente ecco il desiderio si tramuta in realtà. E quindi ecco un ringraziamento a Carlo per essere qui. Per chi non conosce Carlo Dorofatti è un ricercatore che tende ad abbinare diciamo le tradizioni religiose esoteriche orientali e occidentali. Ha avuto dei soggiorni prolungati in Africa e a Dubai e poi tornando in Italia inizia a collaborare con riviste indipendenti, in forma indipendente con riviste come Scienza e Conoscenza, Fenix, Nexus, insomma tutte testate molto conosciute in Italia. E fonda l'Accademia ACOS, Anima, Corpo e Spirito. Le attività di Carlo sono appunto proiettate verso lo sviluppo di un network, di appunto una famiglia, un gruppo di ricercatori e di gruppi soprattutto in grado di esprimere, rappresentare una certa avanguardia. E avendo fatto la presentazione e avendo parlato anche troppo ti passo la parola Carlo e grazie ancora di questa serata. Ovviamente tutta la videoconferenza viene registrata e sarà poi nei prossimi giorni caricata su YouTube e quindi diventa un patrimonio sempre disponibile per tutti quanti. Bene, buonasera, grazie Marco. Mi sentite? Tutto bene? Mi sentite bene? Ah, ok, perfetto, mi sentite. Ottimo. Allora possiamo cominciare. Io ringrazio Marco per questa bella iniziativa, per questa proposta di collaborazione che probabilmente ci vedrà così insieme, non solo per questa videoconferenza, ma anche per altre possibili iniziative, non solo online. Quindi magari ci sarà l'occasione anche di vedersi dalle parti di Milano. Stiamo appunto programmando, progettando qualche evento che inizierà probabilmente verso autunno, autunno inoltrato. E vi daremo comunque informazione in merito a questo. Allora, l'argomento di questa sera è un argomento interessante, importante, fondamentale, perché se per ricerca spirituale, se per realizzazione, intendiamo benessere, salute, realizzazione della propria vita, presa di coscienza della nostra natura più autentica e quindi in virtù di questa presa di coscienza organizzare la nostra vita in maniera sempre più lucida, verso una realizzazione esistenziale, quindi esprimere liberamente la nostra creatività, quindi sviluppare un'esperienza di vita bella, piacevole, anche recuperando antiche conoscenze in virtù delle quali poter regolare le nostre scelte di vita in maniera coerente. Allora, ecco che l'argomento di questa sera può anche essere uno dei tanti, perché, va bene, se intendiamo per ricerca spirituale quello che ho appena detto, quindi una soddisfazione intellettuale, una soddisfazione in termini di realizzazione di sé, della propria vita, ecco, questo può essere sicuramente un argomento interessante, però diventa indispensabile invece considerare l'importanza e quanto sia cruciale la trasmutazione alchemica delle energie sessuali, nel momento in cui, invece, per realizzazione, per ricerca spirituale, per coscienza, intendiamo un qualche cosa di ulteriore rispetto a realizzare la propria esistenza vita. Quindi, se per ricerca spirituale, per realizzazione della coscienza, intendiamo un prendere coscienza della nostra vita quotidiana, di noi stessi, e esprimere, quindi, una vita bella, piena, creativa, dal punto di vista di una realizzazione di sé, del proprio intelletto, allora, ok, questo argomento, invece, diventa necessario, indispensabile, fondamentale nella sua attuazione, nel momento in cui, effettivamente, per realizzazione della coscienza, ci rendiamo conto che ci sono ulteriori obiettivi molto concreti che riguardano qualcosa che va oltre la realizzazione di questa vita attuale nella sua pienezza e che ha a che fare con una continuità di coscienza oltre la morte addirittura la possibilità di progettare la propria evoluzione su piani superiori di manifestazione quindi si arriva a considerare la realizzazione della grande opera come trasmutazione alchemica come metamorfosi quindi non è solo una presa di coscienza etica percettiva o rispetto a quello che è la nostra realtà dei suoi meccanismi e quindi ci regoliamo e quindi ci regoliamo in conseguenza cercando di condurre una vita di un certo tipo ma addirittura ci portiamo ad un obiettivo quello che è una vera e propria rinascita una trasfigurazione cristica una sorta di ascensione in vita senza neanche passare attraverso la morte così come la conosciamo cioè intendiamo la piena realizzazione della coscienza anche come un fenomeno che riguarderà il nostro corpo la nostra vita in una manifestazione su frequenze superiori su piani superiori di esperienza e allora ecco che intendiamo la realizzazione della coscienza e la ricerca spirituale nei termini con i quali l'esoterismo di tutti non solo una questione di conoscenza e di esperienza della propria vita in questo piano in questa incarnazione nella misura più soddisfacente possibile ma addirittura parliamo di una seconda nascita quindi di una metamorfosi di una rievoluzione della propria vita in termini per cui si va a sviluppare una esperienza di trasfigurazione che ci porta su altri piani di realtà addirittura non come escalation nell'esperienza della reincarnazione ma come ascensione in vita quindi trasfigurazione cristica o buddica a tutti gli effetti in questo caso ovvero in quello che è il concetto di illuminazione dal punto di vista esoterico ermetico gnostico la trasmuzione alchemica delle proprie energie vitali ovvero sessuali è fondamentale è un argomento necessario imprescindibile è un'esperienza pratica da considerare non solo in termini di conoscenza teorica ma proprio da perseguire in termini assolutamente pratici allora quindi riprendiamo il nostro discorso per cui la trasmutazione alchemica delle energie sessuali è un argomento fondamentale assolutamente fondamentale imprescindibile per chi voglia attuare in forma concreta pratica quindi non solo intellettuale non solo come pratico scienza etica non solo come espressione di realizzazione della propria vita attuale ma per chi intenda perseguire un cammino di trasformazione di trasformazione alchemica di metamorfosi di rinascita ehm di illuminazione intesa proprio in senso non solo eh mentale quello che può essere una saggezza acquisita no? una capacità di visizione una capacità di realizzare i propri i propri sogni di curare il proprio corpo di instaurare delle relazioni costruttive eh di imparare dagli eventi della propria vita in maniera evolutiva ma ecco è fondamentale capire che l'illuminazione è un fenomeno di metamorfosi è un fenomeno di trasformazione trasmutazione che ci conduce verso piani superiori di esistenza verso piani le cui vibrazioni le cui frequenze ehm creeranno i presupposti di una manifestazione più complessa della vita e quindi dell'esperienza della coscienza attraverso la vita fino a quello che sarà la reintegrazione nell'assoluto sempre che poi questa non non sia poi di fatto un una finalità eh che in realtà non ha neanche senso è tutto simulare la partecipazione all'assoluto e contemporaneamente la partecipazione alle sue manifestazioni relative coincidono coincideranno dal punto di vista della di chi è coscienza eh sia la propria esperienza vissuta nelle incarnazioni sia la propria coscienza come oceano dell'essere eh coincidono come esperienze infatti no? quindi la trasmutazione delle energie sessuali significa un prendere atto delle proprie energie vitali comprenderne la preziosità comprendere quanto è importante non disperdere le proprie perché poi quando parliamo di vita creatività eh capacità quindi di creare di realizzare mh di vivere una vita autentica reale che non sia una vita posiccia eh all'interno di una convenzione psichica collettiva che poi non corrisponde neanche a un'evoluzione di coscienza ma è un software mentale che ci allontana dalla natura reale delle cose da noi stessi dalla vita stessa per cui ecco che ehm l'energia della vita per quanto ci riguarda è quella sessuale perché noi come base biologica abbiamo questo corpo incarnato attraverso questa espressione animale su questo pianeta in questo spazio tempo ed è di questo che parliamo ed è da questa considerazione che partiamo da questo piano di partenza che è il piano biologico ehm l'energia creativa per eccellenza l'energia della vita per eccellenza è quella sessuale che tra l'altro investiamo nella riproduzione per la conservazione l'adattamento e l'evoluzione della specie quindi l'energia della riproduzione è la nostra energia vitale per eccellenza solo che noi non siamo solo animali mhm noi eh potremmo esprimere forse un potenziale superiore che intuiamo di cui tutte le scuole tutti i maestri parlano eh ovvero un potenziale divino un potenziale di autoconsapevolezza che eh l'animale non ha eh non sto dicendo che gli animali non abbiano l'anima o non abbiano coscienza di sé però diciamo che la capacità di autocoscienza che ha la creatura uomo l'animale uomo l'essere umano è un potenziale decisamente significativo e quindi eh diciamo che ci permette di porci domande e di ehm sentire istanze ulteriori rispetto a quelle della semplice sopravvivenza eh che eh nasco mi nutro mi riproduco muoio semmai poi rinasco in un ciclo di vita nascita morte rinascita però ecco eh quello che sentiamo intuitivamente dentro di noi è un potenziale superiore e e questo ci permette di intuire ulteriori frontiere ulteriori obiettivi di realizzazione di ciò che è la nostra coscienza la nostra anima la nostra identità che si pone all'interno di un di uno scenario più ampio rispetto a quello materiale e corporeo da qui tutte le disquisizioni filosofiche spirituali religiose sull'anima nella nata dell'anima il progetto dell'essere umano in quanto eh creatura capace di trascendere i propri confini materiali e le proprie vita intesa come vita del corpo dei sensi e di una mente applicata ad una incarnazione che in questo momento è quella che stiamo vivendo però eh probabilmente abbiamo un potenziale che ci porta oltre questi confini una in una continuità di coscienza oltre la morte in una evoluzione che ci vede protagonisti di una grande avventura cosmica attraverso più incarnazioni attraverso la possibilità di manifestarci su piani sempre più complessi ed evoluti dello spazio-tempo delle dimensioni materiali dell'energia fino ad arrivare ad esprimere una compiutezza di esperienze che ci permette di eh riaderire all'assoluto pur attraverso le nostre esperienze relative nella completezza delle nostre esperienze di cui quella terrestre attuale è una ok nella quale forse ci siamo un po' troppo identificati eh quasi rischiando di esaurire la nostra visione all'interno dei confini materialistici di questa vita quindi egoistici quindi perdendo di vista la nostra ehm unità eh perdendo di vista quello che può essere una comunione di intenti come specie umana perdendo di vista la capacità di essere garanti di un ecosistema di vita eh in relazione con il mondo animale vegetale e il mondo sottile di cui l'essere umano dovrebbe essere garante evolutivo e invece nello smarrimento di noi stessi abbiamo sbarrito un pochino il filo conduttore no? della nostra partecipazione consapevole alla vita e all'evoluzione e quindi ci siamo un pochino persi no? in questa realtà materiale eh allora mh recuperare eh conoscenza coscienza di sé eh significa anche imparare a disporre correttamente della propria energia sessuale della propria energia vitale perché questa energia può essere come dire eh distolta dalle mere funzioni animali quindi riproduttive o di mero appagamento sensoriale hm quindi la passione erotica e tutto quello che è anche il soddisfacimento dei sensi niente da dire benissimo però diciamo che questa nostra energia questo nostro potenziale può essere anche diciamo non solo finalizzato alla riproduzione animale e al soddisfacimento dei sensi fisici corporali e delle nostre fantasie intellettuali ma mh può essere riorientata la nostra energia quindi opportunamente gestita opportunamente conservata e distillata può essere riorientata verso scopi ulteriori verso possibilità ulteriori che non si riferiscono più solo alle dinamiche animali biologiche o sensoriali nell'appagamento no del del nostro corpo emotivo ma possiamo quindi convertire orientare questa energia verso centri più elevati verso funzioni elevate che ovviamente dobbiamo comprendere ricomprendere riattivare risvegliare quindi uscire dal circuito riproduzione cibo conflittualità dualismo lotta per la sopravvivenza dinamiche attacco fuga legge della giungla ecco uscire da tutto questo interpretandolo nella sua versione più matura per poi eh trascendere queste dinamiche proprie dell'animalità per poterci rivolgere a ulteriori possibilità che costituiscono qualcosa di straordinario rispetto al sistema di mantenimento in quanto tale il sistema di conservazione di questo piano direi in quanto tale quindi rappresentano la possibilità di partendo da quello che è la nostra energia animale il nostro istinto erotico la nostra potenza vitale ehm irrorare quei corpi quelle energie quelle facoltà che invece corrispondono a una natura superiore a una possibilità di coscienza superiore che dà senso anche all'esperienza animale e umana tra l'altro quindi l'esperienza eh trae senso della sua direzione comprendendo la sua origine la sua natura reale e quello che può essere una finalità che trascende i suoi confini verso i quali quindi la vita viene orientata per cui noi ritroviamo un senso della nostra vita umana nel momento in cui capiamo quello che è una natura più ampia e quindi quindi una realtà anche più ampia nella quale collocare la nostra avventura di crescita di evoluzione e di spirito ok? quindi le energie sessuali possono essere distolte dalle funzioni animali e umane nel senso anche così puramente mentale sensoriale emotivo del termine per poter essere opportunamente gestite conservate e orientate verso finalità superiori attraverso costruzione dei corpi solari i processi dell'alchimia l'irrorazione dei chakra alti ogni scuola poi avrà una sua terminologia per descrivere lo sviluppo di queste facoltà ulteriori lo sviluppo di queste particolari possibilità della coscienza ma anche del corpo proprio protagonista anche di una metamorfosi fisica energetica vibrazionale quindi entriamo in un ambito dove l'illuminazione la coscienza non sono un fenomeno teologico ma sono un fenomeno manico cioè proprio di trasformazione da qui la trasfigurazione cristica è poi il paradigma per eccellenza di questa trasmutazione che vede protagonista questo questo archetipo che trascende la morte fisica per invita rinascere a nuova vita quindi addirittura eludendo la necessità della reincarnazione che diventa quasi una sorta di piano B nel momento in cui noi non sapessimo realizzare quello che idealmente dovrebbe onore al nostro potenziale reale quindi quando noi non riusciamo ad assolvere alla nostra eh possibilità di coscienza e trasformazione ed ascensione in vita trasformando la nostra esperienza di vita su piani ehm via via superiori di espressione della vita in un ciclo unitivo e coerente continuativo allora ecco che eh dovremmo passare attraverso la morte dell'animale la morte secondo le leggi biologiche che quindi non sono state trascese e eh dovremmo quindi passare attraverso la reincarnazione per tentare attraverso ulteriori nascite eh di completare la nostra esperienza e il nostro ehm così obiettivo di coscienza peccato che tra un'incarnazione e l'altra poi ci sono dei problemi di smarrimento del sé di oblio di memoria e di 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 dispersione sì perché eh eh distogliere le energie eh vitali dal dai dai meri processi animali non vuol dire solo trascendere la la riproduzione perché attenzione attenzione l'essere umano non ha bisogno della riproduzione animale per manifestarsi e questa è già un primo una prima informazione abbastanza scioccante che ci deriva però da tutte le tradizioni d'Oriente e occidente ehm l'essere umano non ha bisogno della morte perché anche la morte in senso biologico in senso animale quindi la la il dolore la sofferenza la malattia l'invecchiamento la morte sono tutti processi naturali sul piano animale ma eh che possono essere superati nel momento in cui noi soddisfiamo la nostra natura reale che ripeto non è solo animale quindi trasmutare la nostra energia vitale riorientandola verso ulteriori possibilità vuol dire trascendere la riproduzione riprodurci ad ad un livello ascensionale su piani sempre più evoluti di manifestazione e quindi di coscienza come possibili produttive trascendere eh l'esperienza della morte ma addirittura trascendere anche l'esperienza della del cibo del 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 nutrirsi perché possiamo attingere al trana ad energie diverse allora uno dice vabbè ma allora cosa siamo venuti qua ovviamente noi siamo venuti qui per trasformare l'esperienza animale in un'opera d'arte per cui ecco che eh ci riproduciamo o oppure eh attraversiamo l'esperienza del piacere sessuale per farne un'arte ci alimentiamo per esaltare l'arte del gusto e dei sapori eh dormiamo per esplorare l'arte del sogno sì perché trascendendo la le necessità animali eh noi non avremmo neanche bisogno del sonno per esempio eh trascendiamo la morte però attraversiamo anche quell'esperienza come esperienza eh di presa di coscienza della natura delle cose eh quindi noi possiamo trascendere l'esperienza dell'animale non tanto per eluderla quanto per trasformarla in esperienza artistica quindi non dipendendone ma vivendola come esperienza d'arte ma non dipendendone in quanto la nostra natura opportunamente risvegliata ehm ne prescinde questo vuol dire trasformare alchemicamente le proprie energie vitali attraverso la gestione la conservazione il riorientamento delle energie sessuali da qui si apre il grande arcano cioè che cosa vuol dire tutte le scuole tutti i grandi maestri d'oriente come di occidente anche se in occidente ovviamente la castrazione del monoteismo giudaico cristiano cattolico ha ovviamente condannato censurato per tutta una serie di finalità politiche manipolatorie di sottomissione dell'umanità questa è un'altra storia di cui eventualmente parleremo in un altro momento quindi ecco perché ci si volge ad oriente perché abbiamo una tradizione un pochino più integra di tantra per esempio però anche in occidente abbiamo la nostra brava tradizione che non è solo quella ermico pagana ma è anche quella cristiano gnostica che legge l'archetipo cristico attraverso particolari chiavi di lettura che descrivono l'esperienza della trasmutazione dell'energia sessuale attraverso varie formule possibili quindi l'alchimia ha adombrato questa conoscenza attraverso simboli anche molto complessi allegorie molto complesse alla fine è possibile riuscire a recuperare questa conoscenza attraverso una via di ricerca una via di comprensione una via iniziatica anche se vogliamo nel momento in cui esprimiamo l'intento di voler dirigere la nostra vita in quella direzione la sincronicità ci permetterà anche di accedere a questa possibilità attraverso degli incontri attraverso degli eventi che ci metteranno in quella direzione e poi a noi esprimere il libro arbitrio nella maniera più adatta anche se siamo sicuramente molto manipolati molto condizionati quindi questo arbitrio non è poi così libero però l'opportunità di sviluppare un cammino di conoscenza è data è data comunque le varie vie hanno poi parlato di formule diverse la via secca la via umida le vie regali le vie alchemiche le formule di coppia le formule di celibato e castità le formule attraverso rapporti plurini liberi poligamici poliandrici quindi le formule investigate dalle varie scuole sono state le più diverse anche prendendo solenni cantonate spesso per cui parliamo di un'energia molto importante fondamentale quindi anche potente difficile da controllare da dominare parliamo di istinti primari quindi l'erotismo il segmento la relazione quindi è un terreno estremamente fragile per cui non è semplice entrare poi nel merito di quelle che sono state le formule realizzative a questo proposito perché poi ci va di mezzo anche la morale con i suoi tabù le sue nevrosi tutto quello che ha creato poi nella testa delle persone le varie fobie le varie censure le varie deviazioni spesso tentando di reprimere questa energia si sono create distorsioni e deviazioni delle più delle più lecere per cui gestire l'energia sessuale non vuol dire mortificarla non vuol dire mortificare l'istinto erotico ma anzi dire esaltarlo sapendo però orientarlo in un certo modo quindi anche qui le vie di castità le vie di celibato non sono vie di ritenzione di repressione di mortificazione dei sensi e dell'esperienza sessuale ma anzi sono esperienze che dovrebbero alzare questi impulsi per poterli trasmutare opportunamente quando invece si parla semplicemente di negazione ecco che si creano poi delle reazioni naturali perché questa energia non la puoi reprimere ecco allora che abbiamo delle azioni culturali sociali criminali fino ad arrivare quindi all'esaltazione alla perdita completa del controllo la pedofilia la pornografia la frigidità cioè abbiamo poi tantissime nevrosi che si sviluppano nella più ampia casistica per cui prima di arrivare a parlare di trasmutazione alchemica delle energie sessuali bisogna veramente capire da dove partiamo noi partiamo da un mondo nevrotico partiamo da una situazione dove dobbiamo veramente fare pace con la sfera del sesso con la sfera dell'ero comprendere proprio l'abc della relazione prima di arrivare a pensare di sviluppare una via tantrica una via alchemica di trasmutazione dobbiamo imparare a resettare e ricomprendere quello che è il valore del sesso dell'erotismo della relazione del sentimento in qualunque modo questo venga sviluppato vissuto per poter riportare armonia in tutto questo per poter riportare una certa un certo equilibrio nell'energia nel sentimento in tutto quello che riguarda la sfera delle relazioni quindi non è un cammino facile né tanto semplice il discorso perché non si può comprare un libro e dire adesso mi metto a fare alchimia sessuale e ora siamo lì a fare i mantra mentre facciamo l'amore o a sforzarci per ritenere queste sono stupidaggini secondo me cioè bisogna davvero partire da basi completamente diverse ricominciando a recuperare una visione molto armonica del sentimento dell'eros libera creativa piacevole emancipata recuperando il senso del piacere recuperando il senso del sentimento dell'amore poi si arriverà a parlare di principio maschile di principio femminile di esperienza di trasmutazione tra l'altro soggipline che non regolamentano necessariamente l'atto sessuale o l'orgasmo che secondo me dovrebbe essere recuperato nella sua naturalezza nella sua spontaneità più bella più libera più serena semmai attraverso tecniche discipline meditative che permetteranno al nostro corpo di riorientare in via naturale i suoi meccanismi interni per cui ecco che poi piano piano si imparerà a proiettare verso l'alto l'energia si il corpo si gestirà in maniera diversa imparerà a gestire in maniera diversa le dinamiche dell'orgasmo le dinamiche dell'attrazione del sentimento della relazione però ecco l'idea della tantra come tecnica sessuale o dell'alchimia sessuale come tecnica dell'orgasmo è una è una è una falsa pista ci sono ci sono anche aspetti però in questo momento secondo me non sono priorità io parlo di tutte queste cose sia all'interno dell'accademia che dirigo qui a Terni attraverso dei percorsi annuali e pluriennali di formazione a quello che è il pensiero ermetico esoterico e a quelle che sono una serie di discipline psicofisiche per il lavoro su se stessi per il risveglio della propria coscienza anche di formazione per operatori olistici però diciamo che l'aspetto più interessante è proprio questo percorso no? di conoscenza di consapevolezza di confronto anche all'interno di una dimensione umana dove il confronto lo scambio il contesto può essere anche molto piacevole no? come laboratorio di meditazione Terni io porto avanti queste iniziative con continuità partirà un nuovo anno un nuovo primo anno a settembre quindi nel sito www.accademiaacos.it trovate tutto quanto ecco Marco ha messo adesso il link quindi troverete lì tutte le iniziative il calendario degli eventi poi io mi sposto anche volentieri a Roma anche a Milano se ci saranno le condizioni anzi vi segnalo che il 29 maggio sarò a Senago per un per un seminario ecco quindi io mi muovo anche e vedremo di usare anche lo strumento del webinar opportunamente però ho scritto un libro come vi ha accennato Marco che è Vibrare altrove edito dalle edizioni verde chiaro dove entro un po' nel merito di tutti questi discorsi non tanto attraverso un'indagine della via orientale perché spesso no? si parla di sessualità sacra erotismo sacro è appunto partito da shiva shakti le mitologie orientali i tantra e questo lavoro viene svolto all'interno dell'accademia e ho delegato ad un mio caro amico di occuparsi di questa parte lui è un orientalista molto preparato a questo proposito mi riferisco a Claudio Marucchi lui ha scritto un libro sull'erotismo sacro di cui io ho curato l'introduzione e lui si occupa più che altro di questi aspetti anche con grande competenza dal punto di vista delle tradizioni d'oriente io ho preferito qui invece recuperare attraverso offrendo una serie di chiavi di lettura addirittura attraverso l'ognosticismo cristiano i Vangeli cioè pensate un po' per cui mi risulterà interessante probabilmente l'approccio che ho e poi trovate tutta una serie di cose sul mio canale YouTube trovate diverse conferenze estratti su questo argomento che secondo me è importante ripeto è imprescindibile però ecco non possiamo essere troppo frettolosi ok quindi bisogna proprio ripercorrere anche quello che è la nostra cultura la nostra mentalità ricomprendere il ruolo del maschile del femminile quali sono i valori gli archetipi e attraverso un valore un lavoro di autoindagine ecco cominciare poi ad avviarsi mutazione alchemica interiore delle proprie energie attraverso opportune discipline che poi io trasmetto anche durante seminari pratici ecco però ripeto non trasmetto tessuale quindi non venite a coppie pensando di fare chissà che oppure pensando che adesso andiamo al seminario sul sesso sacro magari rimorchio rimedio qualcosa no non è questo il concetto quindi mi spiace deludervi si trasmettono delle meditazioni delle tecniche respiratorie anche corporee che però vengono svolte in maniera dissociata rispetto al lato sessuale che comunque cominciano a lavorare all'interno delle nostre energie corporee psichiche ancestrali energetiche per smuovere all'interno una serie di dinamiche che permettono al corpo di piano piano orientare verso l'alto l'energia quindi costruire i corpi solari e piano piano sviluppare un percorso di questo tipo da soli in coppia sperimentando attraverso le formule più diverse poi vedremo quali possono essere stati e quali possono essere i percorsi più pericolosi ma pericolosi perché sono poco sostenibili quindi più rischiosi sul piano del mantenimento di una coscienza di quello che si fa di quello che si vive quindi quelli che sono i più potenzialmente difficili dire anche considerando le nostre attuali condizioni quindi ci sono vie che sono davvero difficili da sostenere e poi ci possono essere vie invece dove in maniera un pochino più diciamo per come siamo fatti noi oggi possono essere forse più gestibili ecco il rischio di dispersione è più contenibile poi ognuno è diverso per cui vedremo poi quale potrebbe essere il discorso allora qui ci sono una serie di domande ecco sullo smantenimento di blocchi di paure che sono spesso troppo profonde hai ragione hai ragione infatti ma Freud non aveva neanche tutti i torti e poi per fortuna Jung Maslow Wilber però in effetti l'energia sessuale è strepitosa è travolgente l'energia sessuale con tutto il contorno quindi l'erogismo il sentimento lo sviluppo di una relazione in effetti abbiamo tanto lavoro da fare a questo proposito per sgombrare la strada da molte fobie tabù traumi microtraumi da qui anche tutto il discorso legato alla famiglia all'educazione insomma alla storia della propria famiglia c'è tanto perché poi si sono create quelle dipendenze pensiamo alla pornografia la masturbazione le deviazioni più strane ma anche le frigidità l'incapacità di vivere serenamente sia il sentimento sia l'erotismo sia il sesso che la percentuale è altissima di persone che hanno problematiche di tipo sessuale di tipo relazionale noi è da qui che partiamo poi piano si arriva anche a considerare altre cose alla luce delle quali poi possiamo magari anche fare un lavoro di smantellamento di certi sistemi di credenza o come dire drenaggio di una serie di ansie di stress di paure di traumi a questo proposito quindi è un bel lavoro che non è solo psicologico che non è solo fisico ma diventa un qualche cosa di più ampio alla luce poi man mano di una presa di coscienza più ampia di quello che è questo argomento affascinante fantastico incredibile vediamo altre domande esiste una differenza nel rapporto con questi con questa tematica fra un sentimento omoerotico o eteroerotico se si quali cioè al di là della ovvia maggiore difficoltà è possibile che chi ha una direzione omoerotica omosessuale lo stesso tipo di esperienza di transmutazione sto leggendo Reich e Gurdjieff si conosco questo testo ce l'ho ve lo consiglio poi c'è tutto il discorso di Lowen sì sì certo Reich Gurdjieff Lowen partendo addirittura dalle armature caratteriali dall'analisi posturologica insomma ci sono dei degli studi che si possono mettere in ballo poi Reich l'orgone tutto questo discorso che è stato anche censurato anche dalla scienza non solo dalla religione ma per quanto riguarda il discorso omoerotico omosuale dal punto di vista esoterico non si pone molto il discorso il problema perché diciamo che il si parte dal presupposto che l'istinto erotico debba essere sublimato trasmutato orientato verso finalità che non sono né quelle riproduttive né quelle puramente del piacere se non un piacere che viene riscoperto ha perso appunto queste vie di sublimazione per cui abbiamo un'esaltazione anche dell'esperienza erotica che diventa estatica però ecco diciamo che come questo impulso si inneschi non ha molta importanza per cui se l'impulso si innesca per un'attrazione eteroerotica o per un'azione omoerotica quando poi la finalità di questo impulso sta nel sublimarlo interiormente non fa molta differenza dato che poi questo impulso non va consumato nella dispersione sessuale fine a se stessa ma va anzi eh verso eh i propri centri interiori a irrorazione di facoltà superiore certo uno può dire beh ma la natura parla chiaro certi meccanismi riproduttivi sono possibili solo attraverso il maschio e la femmina sì ma qui non è di natura riproduttiva che stiamo parlando stiamo parlando di una riproduzione che riguarda un concepimento interiore della della propria ehm nuova nascita eh come se parlassimo di una sorta di autoconcepimento per rinascere a noi stessi quindi in realtà il concepimento interiore per cui la natura può fare da riferimento sì ma fino a un certo punto perché non è di riproduzione animale che stiamo parlando poi è anche vero che esistono archetipo uomo archetipo donna archetipo maschile archetipo femminile questi non possiamo da questi prescindere è anche vero che esiste un omoerotismo evoluto ed esiste un'omosessualità becera dedicata distorta stupida che secondo me non è degna di alcuna eh stima così come esiste anche un'eterosessualità che non è degna di nessuna stima eh per cui dipende anche da come vengono interpretati questi archetipi ed eventualmente anche vissuta l'omoerotismo l'omosessualità nel momento in cui diventa una una sensibilità che trascende la il maschile il femminile in virtù di una di una sensibilità diversa e allora ecco che pare quasi omosessuale colui che in virtù di una sensibilità particolare trascende l'erotismo eterosessuale così come lo conosciamo in virtù di un'androgenia eh però è una un omoerotismo di un'omosessualità che poi non è neanche quello eh in funzione di una trascendenza non in funzione del fare le peggio cose e e al gay pride cioè è proprio tutta un'altra storia capito? quindi ehm tra l'altro io ne parlo in uno dei recenti video che ho pubblicato sul mio canale youtube parlo di archetipi e stereotipi maschili e femminili archetipi perduti e stereotipi deviati e c'è un mio video andate a vedere molto quente eh qualcosa di sporco e di sfogo o di riproduzione no ma no cioè in occidente è diventata tabù per via della della del non è tabù di per sé non dovrebbe non dovrebbe essere tabù cioè lo è diventato per cui ecco che il sesso è diventato sinonimo di peccato di una repressione molto fortificante eh si sfoga nella pedofilia nel nei festini in Vaticano nell'isterismo delle suore nei conventi cioè diventano poi dei testimonial davvero poco credibili anche di questa eventuale eh redenzione del sesso che dovrebbe prescindere dalla carne per essere completamente offerto ad una mista tra l'altro tra l'altro abbiamo siamo già ad un'ora io non so come stiamo con i tempi l'argomento è bellissimo interessante trattarne anche in senso più ermetico più esoterico però siamo anche più pratico comunque nel libro trovate alcuni elementi anche pratici eh meditazioni dinamiche fisiche arrivo poi a parlare del maituna anche se non lo approfondisco perché poi è un discorso che si approfondisce nei seminari anche perché mhm è difficile nei libri cioè bisogna poi incontrarsi perché si entra proprio nel merito anche personale il libro si intitola eh il libro si intitola eh la trasmutazione delle energie sessuali e il mistero della seconda nascita comunque vibrare altrove edito da verde chiaro verde chiaro edizioni testo lo potete ordinare il giardino dei libri macro librarsi eh Amazon o anche tramite il vostro libraio di fiducia lo trovate ogni tanto lo trovate potete anche trovarlo nelle libri di esotene eh bene eh se avete delle domande ditemi tu Marco come siamo con i tempi ti do la parola hai bisogno della parola un attimo dimmi in chat se hai bisogno della parola se vogliamo andare in conclusione cosa dobbiamo fare se ci sono delle ulteriori domande allora Loredana chiede se saranno poi registrate le puntate allora eh adesso di questo dobbiamo parlare un po' con 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 Marco perché eh allora sì dunque io faccio dei webinar attraverso un'altra organizzazione adesso Marco mi ha invitato a fare questa videoconferenza io la faccio molto volentieri ehm faremo delle cose a Milano sicuramente in tempo reale di persona quindi Marco si sta adoperando per creare i presupposti per affinché io in autunno possa venire a Milano tenete presente che alcuni seminari possono essere anche gestiti comodamente online altri invece è più difficile proprio perché sono estremamente pratici e diventa difficile fare dei videocorsi anche perché si entra proprio nel merito di questioni anche personali eventualmente no? che all'interno di un gruppo di lavoro possono essere gestite bene con un videocorso possono anche lasciare il tempo che trovano quindi eh vedremo adesso cosa proporre online eh e cosa invece proporre attraverso dei seminari di approfondimento che quindi saranno delle giornate eh e quindi saranno proprio delle eh dei dei seminari di uno o due giorni non lo so vedremo poi cosa come organizzarci avevamo già previsto delle date infatti se andate nel mio calendario e vedi sul sito trovate già delle date a Milano ottobre novembre che sono proprio state eh così eh ipotizzate con Marco ma non sono ancora definitive non sono ancora confermate quindi eh vedremo però ecco eh quello che facciamo come videocorsi o come videoconferenze sì le videoconferenze sono poi disponibili su YouTube sicuramente che ci dici dei corsi di tantra che ci sono oggi in giro? eh ecco che vi dico auguri nel senso che insomma secondo me l'aspetto puramente tecnico non è non è la priorità non è quello il punto secondo me dal quale partire e sul quale concentrare la propria attenzione poi beh i corsi di tantra diventano cioè attraggono tanti altri motivi però secondo me insomma c'è di tutto in giro per cui io adesso non so secondo me e dunque il tantrismo e quindi i tantra sono testi sapienziali è una tradizione il tantra è un modo di pensare è un attento è un approccio spirituale alla vita in occidente tantra è diventato sinonimo di sessualità sacra o etica sessuale per la quale per la durata della performance perché si possa raggiungere il piacere tantrico eccetera eccetera però in realtà il tantrismo è qualcosa di molto più ampio è proprio una protale una visione una via di realizzazione della coscienza che non si riduce alla questione del sesso o dell'erotismo sacro è una questione molto più ampia per cui corsi come pensare di fare dei corsi ma non lo so dipende che cosa state cercando che cosa andate cercando però il discorso che io cerco di portare è un po' diverso cerca di collocarsi all'interno di un disegno di un quadro più ampio di motivazioni e di ricerca ok? certo sì sì io vi avverto ma io sono su Facebook quindi chi è su Facebook può chiedermi l'amicizia e può trovare io passo di lì per dare notizia di tutte le cose del calendario degli eventi invece a Milano organizzato da da Marco ci saranno una serie di eventi capo a lui lui ha sicuramente la vostra email quindi sarete sicuramente avvisati in ogni caso tramite Facebook io vi avviserò sicuramente e l'argomento della trasmutazione delle energie sessuali sarà un argomento che tratterò sicuramente quindi verrete informati va bene io penso che insomma Carlo ciao non so se sei andato via di persona oppure c'è stato semplicemente un ritardo di segnale e quindi non ho sentito le ultime parole se avevi già salutato che volevi uscire comunque ti ringrazio molto 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 per per l'incontro di questa serata e per l'argomento più che interessante insomma che abbiamo trattato che abbiamo esplorato e come dicevi prima adesso ecco le date a Milano sono in via di conferma quindi chi vuole essere informato appunto si può iscrivere al di là di Facebook si può iscrivere a entrambe le newsletter sia dell'Accademia ACOS appunto di Carlo Dorofatti che alla Self Help Academy così sicuramente in un modo o nell'altro sarete avvisati sugli appuntamenti a Milano che vogliono essere proprio un percorso dovrebbero essere tre quattro appuntamenti e vogliono essere proprio un percorso attraverso appunto la trasmutazione delle energie sessuali fino al risveglio del corpo energetico del doppio energetico ok bene mi senti perfetto e quindi ecco vi invito a tenervi informati tramite le rispettive newsletter e tutta questa registrazione tutta questa serata sarà editata e messa online nel più breve tempo possibile e ringrazio ancora un'altra volta Carlo per essere stato con noi stasera e per aver affrontato appunto questa questa tematica vastissima abbiamo penso che abbiamo visto un po' questa sera abbiamo visto la ciliegina sulla torta anche se è stato davvero estremamente interessante e do il buon proseguimento a tutti voi e vi ringrazio ancora di essere stati qui e vi invito a a tenervi a tenerci in contatto per appunto a breve uscirà una una nuova versione didattica della Self Help Academy e quindi ci saranno delle novità in corso ancora un saluto a tutti e un ringraziamento di nuovo e un buonissimo proseguimento ciao